Allora raga, io sono qui in Sardegna al 2 agosto e apro subito il discorso dicendo che sono positivo mi è arrivato adesso il risultato del test, faccio a tutte le persone che in questi 20 giorni in cui ho fatto le foto che mi sono incontrato non riesco a contattare tutti, lo dico qua fate il tampone, io sono positivo, non ho sintomi e niente, adesso starò 15 giorni qui in Sardegna in attesa di fare un altro tampone che il fandom diventerà negativo adesso gli allego il tampone, faccio chi è stato a contatto con me negli ultimi 20 giorni si devono fare il tampone e si allontano dalle persone Allora raga, come vi dicevo prima io sto bene, state tranquilli, sto in formissimo sto a casa, mi sto nella finale di Champions, sto in quarantena sono rimasto in Sardegna e come vi dicevo nei giorni scorsi la decisione di rimanere è stata giusta perché se avessi preso il traghetto avrei contagiato chissà quante persone perché non sapevo se ero positivo o meno detto ciò, dopo questo piccolo cappello introduttivo io ho avuto i primi sintomi il 19 il 19 oggi è il 26, 25 mi sembra mi sono rinchiuso subito in casa, ho parlato con il dottore mi hanno fatto il tampone ieri mattina, oggi mi hanno dato i risultati ero positivo perciò all'incirca già sono 5-6 giorni che ho il virus tre giorni di picco della carica di ralle l'ho passati perciò ora sto benissimo sinceramente e tra 4-5 giorni farò un altro tampone che sia negativo sono stato lungimirante perché mi sono organizzato un altro appartamentino e c'è stata una discesina privata con una piccola spiaggetta perciò c'è il mare mi farò questi giorni di quarantena in spiaggetta da solo, solo soletto farò un po' di mente locale, concilierò un po' i pensieri e aspettando 3-4 giorni, 5 giorni, 4 giorni, ho detto il medico per fare un altro tampone sperando che risulti negativo, se no dovrò aspettare che passi però sto bene, va bene? torno alla partita di Champions, questi giorni mi farete un po' di compagnia domande varie e tutto, comunque fate il tampone